Buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV leggeremo insieme le notizie a partire dal Corriere Adriatico, il resto è il carlino, le notizie di carattere locale ma prima di tutto sfogliamo l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi è un santo spagnolo, visse nel XIII secolo, si tratta di San Raimondo non nato, ovvero non nato non nato perché è venuto alla luce in seguito ad una operazione medica dopo la morte della madre fece parte dell'ordine della Beata Vergine della Mercede e operò molto per la liberazione degli schiavi in modo particolare in Africa settentrionale, in Algeria e qui diede addirittura in cambio la sua libertà per liberare gli schiavi e questo fece sì che fosse oggetto di violenze, torture, eccetera quindi un santo che sopportò sulla sua pelle tutte le angherie che poi sopportavano appunto chi si faceva schiavo, chi diventava schiavo in merito alle scorrerie dei pirati barbareschi questo è San Raimondo non nato le previsioni del tempo di oggi come avete visto il tempo è cambiato rispetto all'ultima decade di agosto inizialmente il tempo sarà soleggiato, questa mattina non ci sono nubi in modo particolare sopra la città di Fano, sarà un tempo poco nuvoloso dal pomeriggio però dal pomeriggio le nubi potrebbero aumentare con maggiori addensamenti in serata in modo particolare verso l'Apennino a partire dall'Urbinate, i venti sulle coste espireranno con una tensione debole da sud mentre nell'interno da est il mare è leggermente mosso, le temperature dai 17-18 gradi per quanto riguarda la minima ai 25 gradi per quanto riguarda la massima, ebbene è una temperatura più sopportabile rispetto ai 33-34-35 gradi dei giorni scorsi. Ed ora apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove vediamo che l'apertura è dedicata alla gestione dei rifiuti in merito all'argomento che è stato posto alla ribalta dalla conferenza stampa dei giorni scorsi dei tre ex amministratori, Baldarelli, Carnaroli, Busca, che hanno detto la loro ma che hanno avuto il merito così lo definiamo, di aver lanciato ancora questa proposta, questo argomento in vista delle prossime elezioni amministrative. Un argomento che magari la politica ha sempre dilezionato ha sempre giocato un po' al rinvio, però una tappa fondamentale è stata la vicenda della discarica di riceci che ha veramente posto all'attenzione di tutti gli amministratori di quelli regionali, di quelli provinciali e anche di quelli dei comuni questo argomento. La gestione dei rifiuti è un argomento importante per il prossimo quinquennio amministrativo quando probabilmente anche la discarica di Monteschiantello arriverà a, non dico proprio all'esaurimento, ma quasi. Allora, vediamo il titolo. Monteschiantello, patto barzelletta, così l'ha definito l'assessore Samuele Mascarin, serve il controllo pubblico, ha dichiarato appunto Mascarin. L'assessore alle partecipate stronca la proposta di collaborazione con Marche Multiservizi sulla discarica. Mascarin risponde a diverse domande che pone a lui il giornalista Lorenzo Furlani, fa una disamina completa della situazione. Vediamo qualche domanda e qualche risposta. Samuele Mascarin, leader della lista in comune e assessore di Fano delle società partecipate, due ex sindaci e un ex assessore, hanno proposto una collaborazione con Marche Multiservizi sulla discarica. Cosa ne pensa? Sono rimasto sconcertato, ha dichiarato Mascarin dalla proposta di Carnaroli, Baldarelli e Busca di una società di scopo tra Aset e Marche Multiservizi per Monteschiantello. Dopo riceci, mettere in mano la discarica di Fano a Marche Multiservizi sembra più una barzelletta che una seria opzione politica. Questo è quanto pensa attualmente appunto Mascarin, ma il tutto è ancora da definire, perché se questo non va, quest'altro non va, una soluzione bisognerà pure trovarla. E per quanto riguarda Mascarin, la soluzione va cercata in direzione del controllo pubblico. Un altro argomento invece di dibattito è quello della trasformazione dell'ambito sociale in un'azienda di servizi alla persona. La proposta dell'assessore Dimitri Tinti ha trovato diversi oppositori ed ora abbiamo una presa di posizione del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, formato da Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana, i quali dicono no alla accelerazione che è stata improntata dall'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti. Una questione di precedenze, dice Tinti, prima bisogna discutere, lo dicono appunto nell'ambito del dibattito, prima bisogna parlare di sanità e poi parlare di socialità. In questo caso le due componenti si integrano, si intersecano a vicenda, però una certa priorità dovrebbe aspettare alla sanità. Vediamo ora l'altro articolo di apertura del Corriere Adriatico e si parla di un'iniziativa che a Fano è in atto da una trentina di anni, è il commercio equo solidale. Una bottega, una piccola bottega in corso Matteotti, piccola grande rivoluzione, 30 anni di attività per la bottega del centro, modello marchigiano innovativo. Che cos'è il commercio equo solidale? È un commercio che paga il dovuto, giusto dovuto, con un sano equilibrio, i produttori che non vengono così sfruttati né dai grossisti né dalle grosse compagnie. Poter pagare il giusto a chi produce si eleva alla qualità e si fa un grande atto di carattere sociale molto importante. Acquistando a giusto prezzo, senza speculazione, sfruttamento, tè, caffè, cacao, spezie, artigianato e altre merci prodotte sia da cooperative del sud del mondo, sia da piccole realtà locali, nel rispetto di alcuni codici di garanzia, non soltanto è un'esigenza di un commercio appunto equo solidale, ma è anche una questione di carattere etico. E appunto in questo articolo si fa un esame di quanto è avvenuto e si promuove appunto questo genere di commercio. Un appuntamento importante questa sera per tutti i fanesi. Alle ore 21 alla Corte Malatestiana si presenterà, si parlerà di nuovo del nuovo museo, del progetto di ristrutturazione del museo civico della Pinacoteca del Palazzo Malatestiano. Ci sono diverse trasformazioni in atto, alcune sono così discusse, altre sono invece ben accettate. Ebbene è una buona occasione di incontro, di scontro anche, ma di discussione proficua, positiva, che viene organizzata dall'assessore alla cultura Cora Fattori. Ci sarà ovviamente anche il sindaco Massimo Seri, ci saranno anche i progettisti e ognuno dei cittadini potrà dire la loro, in modo che alla fine il progetto potrà tenere conto delle varie osservazioni. Ovviamente dovrà fare una sintesi. Ed ora passiamo a Fossombrone, dove fa notizia ancora il ritrovamento della Madonnina che era stata rubata. La Madonnina sarà restaurata, per fortuna non ha riportato grandi danni. Abbiamo visto ieri alcune scalfitture, graffiature in una mano, facilmente restaurabili. Ma bisogna andare a fondo a questa vicenda perché non è tutto chiaro come il perché sia stata rubata, poi anche restituita, e poi il perché di quei biglietti che l'hanno accompagnata. La Madonnina sarà restaurata, deliranti due messaggi allegati erano legati ai piedi della statua restituita dopo il furto a Santa Maria Ausiliatrice. Restano senza risposta di come sia avvenuto il furto e come sia stato possibile la riconsegna. È ancor più il significato che assumono in un contesto assurdo i messaggi scritti su due foglietti. li vediamo qui in questa fotografia. Che cosa dicono questi foglietti? Riportano delle frasi del Vangelo. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, un passo del Vangelo di San Luca. Ma che cosa significhi e perché l'ignoto autore l'ha scritto? Che cosa intenda dire? Questo è ancora incerto. Vediamo ora le altre notizie che appaiono per San Costanzo. Si parla della Proloco. La Proloco è il grande motore della sagra della Polenta. Veramente una delle sagre più importanti del nostro territorio. I fanesi l'hanno assaggiata durante In Gir Perfam, uno dei piatti più prelibati della serie dei prodotti locali che sono stati posti all'attenzione del pubblico in questa bella iniziativa. E quindi questo articolo riporta il merito di tutti i volontari della Proloco. Sono circa 200 e hanno contribuito veramente in modo significativo sia alla sagra della Polenta che al rilancio di tutta la comunità di San Costanzo. E poi a Marotta invece vediamo che presto ci saranno le nuove scogliere. Presto via al primo stralcio dei lavori. Il sindaco intervento senza precedenti a tutela della spiaggia e la spiaggia ne ha veramente bisogno. Abbiamo visto durante l'ultimo fortunale come l'erosione abbia portato via metri e metri di spiaggia e questo è importante per arginare questo fenomeno. Partirà la seconda settimana di settembre il primo stralcio dei lavori per potenziare le scogliere a difesa del litorale proprio a Marotta. Vediamo anche Senigallia. Fiere, la pioggia non guasta il finale. Se la pioggia, se il maltempo non ha imperversato, ha salvato la fiera di San Bartolomeo purtroppo e poi ha caratterizzato la fiera di Sant'Agostino a Senigallia. Ora, avanti tutta, un weekend di eventi. L'estate non è finita certamente a Senigallia né in tutte le altre località della riviera della provincia di Pesaro-Urbino. Però, insomma, la 558esima, pensate quante edizioni ha avuto la fiera di Senigallia, sotto la pioggia. Ultimo giorno anche per la campionaria di Senigallia, arrivati invece alla sua 31esima edizione. Archiviate le fiere, non si ferma l'estate senigallese con molte altre iniziative in programma. E una di queste è l'edizione Extra Time di Rotondo Music Festival alla Rotonda Amare. L'evento avrà un numero di posti limitato e si terrà dalle 21 alle 3 di notte. E poi una pagina dedicata al delitto di Sirolo. Fiocinata al cuore, il killer resta in carcere. Il GIP lo ha definito un ragazzo spietato, pericoloso, vendicativo. Clyde, colpito dall'alto al basso, la vittima. Lo vediamo qua in questa fotografia. Era un giovane albanese, colpito dall'alto al basso. Quindi vuol dire che lui si stava attinando, non era inerme, insomma, non era pericoloso. Melul, invece l'Algerino, avrebbe potuto uccidere ancora. Melul ha trafitto Bitri, crudelmente, senza esitazione, in pieno petto. Ha imbracciato il fucile subacqueo, nonostante avesse potuto risalire nella propria auto e ritirarsi. E viene definito come un soggetto pericoloso dall'indole vendicativa e ritorsiva, incapace di contenere l'ira. Veramente un atto inqualificabile, indescrivibile, quello che ha compiuto. Vogliamo giustizia? Ovviamente lo chiedono i genitori, gli amici, i parenti di Clyde Bitri, morto a 23 anni, il cui corpo ora viaggia verso l'Albania, dove verrà seppellito. Il corpo arriverà via nave a Luscinie, la città natale, appunto, di questo ragazzo dove vivono i genitori. E oggi parliamo anche di sport. Parliamo di sport perché abbiamo la notizia del Fano Calcio che evidenzia come l'allenatore, tra alti, bassi, cambi di gestione, giocatori che non arrivano, richieste di rinforzo della squadra, insomma tutte queste vicende che hanno animato i giorni scorsi. Ebbene, Marco Scorsini ha deciso di dimettersi da allenatore di Fano. E ora il Fano è veramente nei guai. L'annuncio del mister a metà allenamento nella giornata di ieri. Misura colma per le situazioni vissute nel tempo, ha dichiarato Scorsini. Il pressing dei dirigenti per farlo desistere, ma a questo punto Scorsini non ne poteva più, domenica è anche in programma la partita di Coppa Italia. E come Mancini insomma ha piantato a metà questa situazione mentre la squadra era in allenamento. Ma come condannare Scorsini? No, dopo che ha fatto, ha chiesto, ha implorato, insomma ha fatto conferenza in stampa. Ebbene, è stato lasciato quasi solo e quindi Scorsini se n'è andato. Peccato, peccato. Le dimissioni a Marco Scorsini, rese note dal diretto interessato nel bel mezzo dell'allenamento di ieri pomeriggio, hanno l'improvviso deflagrato quella che evidentemente all'alma era solo una calma apparente. Invece, per quanto riguarda la Vis Pesaro, l'obiettivo è quello della salvezza e sono i giovani da rilanciare. Banchieri sottolinea le linee guida alla vigilia dell'inizio del campionato. Ieri il tecnico, capitano di Paola e dirigenti ospiti del nuovo sponsor LC Mobili. Quindi si parte con entusiasmo per quanto riguarda il nuovo campionato della Vis. E guardiamo questa fotonotizia in cima alla pagina perché è ritratto Davide Mazzanti che non fa altro che collazionare sucessi con la sua nazionale femminile contro la Turchia. Il livello sarà alto ed è in semifinale dopo aver battuto la Francia con una gran bella partita. Ed ora passiamo alla pagina regionale del Corriere Adriatico perché si parla ancora di Mancini, si parla di Tamberi, si parla di Rossi, si parla anche di Mazzanti. Insomma, sono questi i grandi testimonial marchigiani per la promozione della regione, ma ci sono ancora polemiche. Mancini ci rappresenta, resti lui il testimonial, l'ok dei sindaci di Ascoli, di Fermo, di Urbino e Bolognola. Figura di alto profilo e perfetto insieme a Tamberi, dicono appunto i sindaci che avvallano la decisione di Acquaroli. Mentre Pesaro un po' si divide tra Tamberi e anche Valentino Rossi che viene lanciato da altre voci, in modo particolare da voci interne al Partito Democratico. Così le definiamo per sorvolare altre cose. E invece quello che è accaduto nel volo tra Catania e Falconara merita una grande attenzione. Motore in fiamme, atterraggio sciocche, panico sul volo Catania-Falconara. L'aereo costretto a rientrare subito dopo il decollo. A bordo 171 passeggeri con due neonati. È stato veramente atemi di terrore, di tensione, di paura quelli vissuti dai passeggeri di questo volo che da Catania doveva atterrare a Falconara. Poco dopo il decollo è scoppiato un incendio a bordo e ci è voluto del bello e del buono per i piloti per compiere un atterraggio di fortuna. Un atterraggio che per fortuna è riuscito. Illesi ma spaventati i passeggeri sono ripartiti per le Marche dopo le 22. E qui abbiamo anche delle testimonianze. Un gran boato, poi il fuoco, c'era chi urlava e pregava. Alessandra Barucca di Senigallia stava rientrando dalla Sicilia. La vediamo qui in questa fotografia e l'articolo riporta la sua testimonianza. Ed ora diamo anche un'occhiata all'articolo di apertura per quanto riguarda la pagina di Pesaro. Si parla dell'inizio dell'anno scolastico. Nelle scuole si sta stretti, caccia a laboratori e aule. Il Marconi, il liceo, rinuncia al bar ma nessuna classe emigra dal campus. Per il Cecchi spazi al provveditorato. Incognite per il Bramante Genga che rischia lo spezzatino. Un po' di qua, un po' di là in altre strutture. Tutto che è invece per il Mamiani e il liceo Mengaroni. Questa è un po' la situazione un pochino caotica, dobbiamo dire, delle scuole. Bene, a questo punto passiamo al resto del Carlino. Il resto del Carlino apre l'articolo con sempre la scuola, però una scuola particolare perché non è la scuola elementare, media oppure le superiori. Si parla delle scuole dell'infanzia e soprattutto delle scuole dell'infanzia private perché ci sono iniziative che vengono aperte da alcune ragazze che sono molto portate alla didattica e quindi alla cura dei bambini. Cento bebè in lista d'attesa e noi apriamo il terzo nido. La psicologa Fiorelli, insieme a due soci, ha realizzato tre strutture private sul territorio. Stiamo già pensando alla quarta avventura. Un agrinido ha detto appunto questa psicologa. I posti nel pubblico sono passati da 263 a 290 ma a chiusura delle iscrizioni i rispinti erano 113 che non hanno trovato posto nelle strutture pubbliche e appunto il loro soccorso, ma soprattutto il soccorso dei genitori che lavorano e quindi hanno bisogno di queste strutture per poter continuare la loro attività. I servizi degli asili nido e delle scuole materne private sono molto importanti. Ed ora guardate, se riuscite a vedere bene questa fotografia, un evento particolare. Un arcobaleno di fuoco al porto. Vedete che non è in realtà un arcobaleno quello che è apparso nel cielo del porto di Fano. Questo per esempio è il laboratorio di biologia marina, quindi siamo in Sassonia. Un arcobaleno di fuoco, l'esperto risponde, si tratta di un evento meteorologico assai raro che si determina solo in certe condizioni. Ebbene, si tratta di un misto tra pioggia-sole che non fa un vero e proprio arco, ma dipinge come fosse una pennellata il cielo dei colori dell'arcobaleno. Ebbene, è un effetto interessante che appunto viene spiegato in questo articolo. Ed è Fratelli d'Italia che dà voce alle proteste degli operatori di Viale Dante Alighieri in merito a tutti i problemi che insistono su questa via. La pericolosità, il fatto dell'eliminazione dei parcheggi e dei parcheggi che dovevano essere di isulta, che invece non si trovano. Ed è in modo particolare la segretaria di Fratelli d'Italia di Fano, Loretta Manocchi, che prende posizione evidenziando le carenze e le mancate promesse dell'amministrazione comunale. In questo articolo di Spalle invece si parla dell'ultimo atto di questa calda terza età, la manifestazione che ha coinvolto tutti i centri anziani del nostro territorio con tante iniziative, tante iniziative di animazione, giochi, mostri, laboratori, eccetera. Ebbene, la riunione finale con le premiazioni anche di coloro che hanno così fatto parte di un corso di fotografia con il cellulare molto interessante. Veniamo ora nell'entroterra, Montemaggiore, altro schiaffo. Anche il Consiglio di Stato ha detto no al ripristino del Comune in merito al ricorso che i residenti hanno fatto per non far più parte dell'insieme dei Comuni che ha appunto caratterizzato il nuovo assetto territoriale della Valle del Metauro. Il Comune, cancellato dalla fusione, non potrà essere ripristinato. Il Comitato, in quanto soccombente, dovrà accollarsi anche le spese processuali pari a 3.000 euro. E poi a Marotta, abbiamo visto come si fanno le nuove scogliere, le opere riguarderanno il tratto da nord a sud dei Bagni Solindo al Molo Barbieri. No, scusate, diciamo meglio. Le opere riguarderanno il tratto da nord a sud dai Bagni Solindo al Molo. Barbieri, che è il sindaco ovviamente, litorale tutto nuovo, non è il Molo Barbieri. Barbieri è il sindaco ovviamente. E lo dico con il sorriso. Turismo urbino resiste grazie alla Università. Egidio Cecchini della Confcommercio. Premesse e speranze sono andate deluso, deluse per crisi economiche e alluvioni. Più puntiamo sulla riconoscibilità. Ebbene, il turismo e la promozione di Urbino è sempre sulla cresta dell'onda. Urbino è una delle società turistiche più appetibili di tutta la nazione, di tutto il territorio nazionale. Giriamo ancora la pagina. Vediamo Cantiano. Cantiano si risolleva anche grazie al teatro. Il paese ha vinto per il terzo anno consecutivo il bando del festival. Ma che storie, rievocazione storica per guardare al futuro. E diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi, dove l'apertura è dedicata, eccola qua, è dedicata ad una fabbrica che chiude per sfratto. Il titolare si barrica con gli operai, ma ora dovrò licenziare tutti. Purtroppo questa forma di resistenza un po' belletaria non ha potuto avere, come era logico aspettarsi, un successo. È accaduto comunque a Fossombrone, dove l'ufficiale giudiziario si è presentato alla metalli plastificati con la polizia. Ho dovuto tenere calmi i dipendenti, vana anche la mediazione della prefettura. È una storia lunga, dieci anni. È l'arrivo dell'ufficiale giudiziario con i poliziotti e un fabbro ieri mattina alle 8.30 davanti alla metalli plastificati di Calmazzo. Viene documentata da questa fotografia. Purtroppo chiudiamo con una notizia non certo bella, ma questo è. E allora non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento a domani alle 7.00. Grazie e buona giornata.